Salve a tutti, benvenuti a Sparkiolab, questa nostra iniziativa che vuole creare una sorta di panoramica su quelle che sono le realtà dei musei open air, in questo caso con l'intervento di oggi della dottoressa Comis e poi successivamente affronteremo i temi della comunicazione, del marketing nei beni culturali e nell'ambito culturale, il fundraising per la cultura e poi dopo aver fatto un'incursione su quella che è la realtà di Montale, del parco della Terra Mala di Montale, nei giorni 18 e 19 faremo due esperienze di archeologia sperimentale nelle quali esperti e professionisti del settore ci illustreranno come è bene divulgare e come è possibile divulgare l'archeologia in maniera diciamo corretta e affascinante e avvincente per entrare un po' in quelli che sono i meandri della divulgazione. Non tolgo nessun tempo all'intervento della dottoressa Comis che ci illustra appunto la realtà dei musei archeologici all'aperto in Europa e anche in Italia e quindi passo subito la parola a lei che ci parlerà. Grazie mille, io vi ringrazio molto di essere qui stasera e ringrazio soprattutto chi mi ha dato l'opportunità di essere qui oggi, in realtà io oggi porto la voce di EXARC a un network internazionale dei musei archeologici all'aperto e dell'archeologia sperimentale. Il nostro direttore Roland Pardecopper vi saluta tutti, avrebbe tanto voluto essere qui oggi e io sono molto onorata sia di poter portare il messaggio di EXARC a voi e a tutti voi ma anche di poter aprire questa splendida iniziativa che a mio vedere è veramente molto utile non solo per chi è presente qui in sala ma anche per tutti quelli che avranno intenzione di usufruire dell'esperienza che EXARC ha portato avanti e anche di tutti quelli che magari incuriositi vogliono capire di che cosa si tratta. Questa lezione si svolgerà su quattro moduli, vedrete che io sostanzialmente ripeterò molto spesso alcuni concetti, questo non tanto perché reputo che non siete in grado di capirmi ma purtroppo perché il tema è abbastanza complesso, non tanto nel contenuto, quanto proprio per le sovrapposizioni che esistono di diversi ambiti in delle zone che da fuori possono voler dire tante cose diverse. Nel primo modulo parleremo proprio a livello introduttivo dei musei archeologici all'aperto in Europa e in Italia. Si tratta di una presentazione che è stata già portata avanti presso Domagnano a San Marino in un'iniziativa che portava insieme gli architetti e gli archeologi per capire e analizzare come si poteva fare una divulgazione diversa, una tutela diversa dei siti archeologici. Prima di iniziare però vorrei far vedere un video che è stato già pubblicato tramite i social, che è un video promozionale che è stato prodotto da EXARC nell'ambito di un progetto europeo e che ha proprio il compito di farvi entrare nel merito di questa nuova realtà museale. L'identità culturale europea affonda le proprie radici in un remoto passato. I reperti che affiorano negli scavi archeologici fanno emergere frammenti della vita di antiche genti che hanno popolato l'Europa fin dagli albori della preistoria. Grazie ai metodi della moderna archeologia oggi è possibile indagare le tracce lasciate dall'uomo nel corso dei millenni con strumenti di analisi sempre più sofisticati. Così si ricostruiscono l'organizzazione socio-economica e il livello di sviluppo tecnologico delle antiche popolazioni. Si ipotizzano le caratteristiche dell'ambiente e degli insediamenti. Ai musei spetta poi il compito di conservare le testimonianze del mondo antico e di diffonderne la conoscenza. Ma difficilmente i reperti esposti nelle teche di un museo riescono a comunicare al pubblico un quadro della vita del passato completo e coinvolgente. Proprio per dare risposta a questa esigenza sono nati in Europa dei musei particolari nei quali il visitatore può immergersi in un autentico e affascinante viaggio nel tempo. Senza filtri, vivendo in prima persona atmosfere antiche di secoli, sono i musei archeologici all'aperto. Qui la storia è interpretata e viene fatta rivivere con un approccio fortemente evocativo, attraverso ricostruzioni esaurienti e realistiche degli ambienti e delle attività del passato. I musei archeologici all'aperto sono forti di una tradizione quasi centenaria, che ha avuto la sua origine in Germania, nel mondo scandinavo e anglosassone. Costituiscono un punto di contatto privilegiato tra la ricerca archeologica e la divulgazione. Le enormi potenzialità culturali, scientifiche e didattiche di questo tipo di musei ricevono oggi un impulso nuovo. Nasce LiveArc, un progetto internazionale che riunisce otto realtà leader in Europa, impegnate a diffondere la conoscenza dei musei archeologici all'aperto, ad approfondire le prospettive, a scambiarsi esperienze. L'interpretazione dei dati archeologici è uno degli aspetti cruciali dell'attività dei musei archeologici all'aperto. Per ricostruire i manufatti antichi non basta infatti conoscerne l'aspetto. È indispensabile indagarne le tecniche costruttive, illuso che ne veniva fatto. E' questo l'ambito privilegiato dell'archeologia sperimentale. Per gli otto partner del progetto LiveArc, questo è un vero e proprio metodo di indagine scientifica. Partendo dai dati e dai reperti archeologici, si ricostruiscono pazientemente e dettagliatamente gli antichi processi tecnologici e produttivi. Si aprono così nuovi scenari di conoscenza. E riemergono dall'oblio, interi scorci di vita delle antiche civiltà, che hanno abitato l'Europa. I musei archeologici all'aperto promuovono un approccio nuovo e diretto del pubblico con il passato. A volte lo fanno con vere e proprie ricostruzioni dal vivo, di scene di vita quotidiana o di momenti salienti della nostra antica storia. Queste spettacolari interpretazioni spesso impegnano un gran numero di attori, utilizzano costumi e scenografie. Anche in questo modo, negli otto musei del progetto LiveArc, la storia diventa viva. Qui i visitatori non si limitano a cercare di conoscere il passato, ma lo rivivono in prima persona. Coinvolti in un'affascinante avventura sensoriale che, almeno per ora, neppure le più raffinate tecniche di ricostruzione virtuale sono in grado di restituire. Grazie a queste modalità di presentazione, dirette e interattive, i musei archeologici all'aperto rappresentano oggi uno straordinario successo di pubblico e una delle frontiere più stimolanti della moderna archeologia. LiveArc. L'archeologia non è mai stata così viva. L'archeologia non è mai stata così viva. Bene. Allora, abbiamo visto questa, come dire, carrellata promozionale per farvi entrare un attimo nella dimensione dei musei archeologici all'aperto, così come vengono percepiti da EXARC. Adesso cercheremo di andare un pochino più, in modo un pochino più razionale dentro la cosa e analizzare quelli che sono gli elementi che determinano che cos'è effettivamente un museo archeologico all'aperto. Prima parleremo di quello che, appunto, si può chiamare un museo archeologico all'aperto. Tratteremo anche di quelle che sono le problematiche relative a un'effettiva definizione e anche del cammino che è stato compiuto da EXARC per poter giungere a una definizione, diciamo, onnicomprensiva del fenomeno. Un brevissimo cenno di storie che poi vedrete e riprenderemo nel terzo modulo. Alcuni esempi, veramente pochi, perché come vedrete sono tantissimi e non si possono riuscire a illustrare almeno in quattro ore di lezione. E poi una conclusione che è relativa, diciamo, alla potenzialità che è in sita in questa nuova forma di museo. È un nuovo museo. Intanto vorrei mettere l'accento sulla parola museo. È un museo perché è una collezione di qualcosa, vedremo poi che cosa. Ma rispetto a quello che succede in un museo classico, i dati di scavo, che usualmente hanno carattere immateriale, e non mi sto riferendo agli oggetti che provengono da uno scavo archeologico, non ai reperti, ma a tutta la documentazione, che se qualcuno di voi è archeologo sa benissimo quanto può essere corposa, che però non ha una tangibilità propria. Per poter essere divulgata, deve essere in qualche modo interpretata. Allora, quanto succede in un museo, diciamo, classico, è che il visitatore si trova direttamente in contatto con una realtà tangibile del passato, quindi con un reperto. Mentre in un museo archeologico all'aperto, quelli che sono i dati che non si possono percepire fisicamente, vengono resi percepibili fisicamente, quindi gli viene data una consistenza materiale. Per fare questo però è necessario, assolutamente necessario, come fa già qualsiasi archeologo quando ha a che fare con una documentazione di scavo, interpretarla. Questo è un esempio che viene dall'Inghilterra, da Batzer. Vedete, questa è una planimetria relativa a una fase di scavo di una casa circolare, una capanna circolare. Quella sotto è l'interpretazione effettiva, strutturale, delle buche di palo, sul cui ovviamente si innalzava l'impalcato aereo dell'abitazione. E quella che vedete a fianco è un tentativo di ricostruire. Adesso la capanna è così. Se noi ci fossimo fermati esclusivamente ai dati di scavo, il sito probabilmente archeologicamente sarebbe del tutto invisibile. Visibile esclusivamente degli occhi molto allenati, quelli quelli degli archeologi. Ma la nostra finalità non è quella di mantenere una cultura separata rispetto a chi potrebbe usufruirne. Per cui, in un museo archeologico all'aperto, che può anche avere una collezione reale di reperti archeologici, si integra l'esperienza del visitatore tramite un'interazione fisica. Quindi, come abbiamo visto in questo caso, la Franziska, che è esposta in una vetrina qualsiasi, viene riutilizzata sotto forma di replica in modo pratico. Quindi ne viene mostrato l'utilizzo. Questo è un esempio che viene da Roma. Si tratta di una ricostruzione, in realtà libera, di una capanna dell'età del ferro. È stata rinvenuta nel corso di un cantiere architettonico, insomma, si stavano innalzando degli edifici ed è venuta alla luce questa capanna molto importante, perché fa parte della cultura latina. e si è deciso di ricrearla, ricostruirla in situ. Come vedete davanti, ci sono collocati dei segnacoli, diciamo, dove erano effettivamente le buche di palo dei reperti originali, quindi il luogo effettivo dove era stato innalzato originariamente e, poco più in là, la ricostruzione tridimensionale. Come vedete qui, in fase di ricostruzione, le case sono molto vicine, cioè gli edifici di oggi sono veramente molto, molto vicini a quella che è l'area ricostruita. E diciamo che la cosa acquisisce ancora più significato se la guardiamo dall'alto. Quindi qui vedete la capanna ricostruita, il sito archeologico e la modifica progettuale è evidente sulla collocazione e la dislocazione degli edifici per rispettare l'area archeologica. Molto spesso, appunto, non è possibile fare una musulizzazione in sito di un qualsiasi scavo archeologico, per motivi progettuali, per qualsiasi altro genere di motivo, anche esplicitamente di tutela. Quindi non è soltanto una necessità, ma è anche una possibilità. Io trovo abbastanza significativa questa immagine perché ci fa capire come potenzialmente qualsiasi l'ascito del passato possa essere integrato in un ambiente contemporaneo, rivestendo anche in questo caso, se voi ci pensate, un'area di libero accesso. Invece di avere il giardinetto con le altalene, gli abitanti di questi palazzi hanno la capanna. E direi che questo è uno dei punti dove torneremo più spesso, che è quello proprio del rispecchiamento della società che vive nel contemporaneo, nel presente, tramite un segnale di un'emergenza del passato. Questa emergenza del passato, mi piace molto questo termine, mi piace molto anche il fatto che questo è un laboratorio dal basso. Teniamo conto che la concezione architettonica di tutela di un bene archeologico usualmente prevede sempre un qualcosa che dall'alto va a coprire qualcosa che esiste, che è di difficilmente, come dire, leggibile. Il resto archeologico, appunto, come dicevo prima, voi lo sapete tutti, non è proprio immediatamente fruibile. Invece l'archeologia sperimentale e il museo archeologico all'aperto dà, la possibilità a qualcosa dal basso, dalla terra, dalla storia della terra, di emergere. Uso questi termini per rientrare in contatto con un tema conosciuto dal punto di vista architettonico come quello del genius loci. Il genius loci, appunto, se vogliamo leggerlo in questo senso, sarebbe l'emergere di una testimonianza del passato in un panorama contemporaneo. In questo caso, questa è una foto aerea di Laire, che è un museo archeologico all'aperto, estremamente importante, che ho collocato in Danimarca. Come vedete qua la vocazione è totalmente naturalistica, si trova in un parco, un parco naturale. In altri casi, e qui stiamo guardando a Calafel, in Catalunia, è difficile vedere dov'è il museo archeologico all'aperto. Il museo archeologico all'aperto è qui, tra la ferrovia e la tangenziale. ma riveste un'importanza notevole in questo caso perché è stato ricostruito in situ, cioè sulle mura antiche di questo insediamento iberico è stato innalzato una vera e propria rocca, una rocca dell'età del ferro. Come vedete, appunto, può essere compresso o può essere ampliato questo emergere del genius loci a seconda della collocazione del reperto archeologico, ma può essere anche dislocato da tutta altra parte. Sotto alla definizione di museo archeologico all'aperto ricadono parecchie realtà, che come vedremo più avanti sono sovrapposte sia per finalità sia come, come dire, fruizione stessa del luogo. È dal 2001 che EXARC lavora proprio in questo senso, cioè cercare di dare una definizione comune, un territorio di scambio comune tra realtà che all'inizio non sapevano neppure di essere ancora dei museo archeologici all'aperto. Uno dei modi con cui questo è avvenuto è stato LiveArc, come avete visto prima il video promozionale che è stato peraltro realizzato dal partner italiano, quindi dal Parco archeologico del Montale, e poi con l'ultimo progetto europeo che è ancora in corso, OpenArc. Nel 2009 poi è stata fatta, proprio all'interno sempre di LiveArc, la guida ai musei archeologici all'aperto in Europa, che forse qualcuno di voi aveva già visto, come proprio prodotto del network internazionale all'interno del progetto europeo. Poi fortunatamente, attraverso le esperienze e il continuo confronto tra realtà diverse in tutta Europa, è stato possibile fare uno studio di livello accademico molto alto, che è l'ultima frontiera della ricerca, in questo senso, della tesi di dottorato di Roland Pardecopper sui musei archeologici all'aperto. Attualmente è l'unica pubblicazione che si propone di analizzare il fenomeno in modo coerente, mentre prima di questo volume le informazioni erano ancora non strutturate, quindi si trovavano articoli in qualche pubblicazione, non si capisce bene se si riferivano a un museo archeologico piuttosto che a un'altra realtà. diciamo che lui ha cercato di fare nel corso di sei anni un lavoro di state of the heart, proprio del fenomeno, utilizzando l'esperienza di EXARC. Public archeology, lo vedremo anche dopo, è invece ancora più ampio come strumento proprio per arrivare a definire che cos'è questo fenomeno e porta insieme tutte quelle che sono le ricostruzioni anche libere, quindi non musei archeologici all'aperto, che sono sparse sostanzialmente in tutto il mondo. La definizione che è stata data nel corso degli anni e che è stata recepita da ICOM come effettivamente una definizione di nuova tipologia di museo è questa. Il museo archeologico all'aperto è un'istituzione no profit permanente. Mi soffermo sui singoli punti. Vi pregherei, scusate, mi sono scorretta di chiedere prima, se avete domande, per cortesi assegnatevele, le usiamo nell'ultimo modulo per discutere. Un'istituzione no profit permanente. No profit, sappiamo tutti cosa vuol dire. Certo che un'istituzione no profit non è detto che non crei profitto in assoluto, magari non per se stessa. Permanente vuol dire che devono essere fisse queste strutture, non temporanee. Ricostruzioni architettoniche tridimensionali all'aperto. Il problema è che debbano essere basate su fonti archeologiche. Quindi se a noi viene in mente di ricreare così una capanna che ci sembrerebbe di richiamare all'antico, possiamo farlo, ma non per questo potremmo parlare di un museo archeologico all'aperto. Ci deve essere un legame fortissimo con quello che è la fonte archeologica. Sia, come abbiamo visto nel caso di Calafel, in situ, sia invece dislocato in un altro ambiente, come vedremo dopo. Come dicevamo prima, il museo contiene delle collezioni, ma le collezioni che contiene un museo archeologico all'aperto sono di carattere immateriale o intangibile. Questa è una cosa molto importante da sottolineare, anche quando si ha a che vedere con le varie istituzioni. La cultura intangibile ha ricevuto una sua definizione ormai, quindi non è più il caso di limitarsi a voler proporre magari delle repliche, delle ricostruzioni, ma bisogna imparare anche a dare valore a tutto quello che non si può toccare. Fornisce un'interpretazione. Non è la verità. Fornisce un'interpretazione vuol dire che il dato, di qualsiasi genere esso sia, storico o archeologico, è un dato interpretato. Non è più un legame diretto con una fonte primaria, come può essere una vetrina, con un oggetto senza definizione, senza data. È un oggetto che invece è collocato in un contesto e quindi è il frutto di un'interpretazione. Questa è una parola assolutamente chiave per i musei archeologici all'aperto, interpretazione. Ed è molto importante che questo venga messo molto in risalto quando si fa divulgazione. L'interpretazione viene data di come le persone vivevano ed agivano nel passato. Quindi non è un monumento o un unicum. Si tratta anche della vita quotidiana di tutti i giorni. Si tratta delle scelte quotidiane che potevano essere avvenute nel passato. Di un'interpretazione di come noi riteniamo, sulla base del dato scientifico, di come poteva essere. L'ultima frase, questo viene realizzato tramite valide procedure scientifiche, è una frase che poi vedremo nel secondo modulo molto più dettagliatamente perché le procedure scientifiche delle volte vengono un po' fraintese in questo ambito. E le finalità sono quelle dell'educazione, di studio e divertimento dei suoi visitatori. Quindi come vedete non è un museo che fa cultura appunto. Venite a vedere un museo archeologico all'aperto che c'è la cultura, no? Se volete potete imparare qualcosa. Potete anche acquisire, diciamo, delle nuove competenze esperienziali. Potete divertirvi e basta. L'offerta è talmente variegata che è molto difficile poter dare esclusivamente una priorità. Anzi, in questo momento storico pare che sia proprio sbagliato darne soltanto una. Io vi chiedo scusa, la traduzione l'ho fatta io, infatti non è molto bella. Però se voi andate comunque a verificare la definizione di EXARC nel sito, questi sono i temi principali ed ogni singolo punto è esplicitato in modo un pochino più approfondito. Il problema più grosso del museo archeologico all'aperto è quello dell'archeologia sperimentale. Qui mi preme semplicemente dire che il fine dell'archeologia sperimentale è la ricerca, non è la ricostruzione. Se fosse solo la ricostruzione sarebbe un'esperienza, non sarebbe un esperimento. E poi soprattutto se si chiama archeologia sperimentale, oltre a trarre le origini dal dato archeologico, dovrebbe voler dire qualcosa per l'archeologia. Quindi dovrebbe tornare all'archeologia. Sfortunatamente il termine archeologia sperimentale oggi si vede applicato in modo abbastanza libero ad attività di ordine diverso e di diversa appartenenza. Sia nell'educazione, anche a livello di laboratorio didattico, a livello di esperienze tecnologiche, sia di turismo. Quindi l'archeologia sperimentale è un po' tutto e niente oggi. Questo abuso del termine ha creato nel corso degli anni una frattura molto forte con il mondo accademico, che in qualche modo ha ritardato, diciamo così, l'integrazione dell'archeologia sperimentale come metodo di ricerca effettivo dal punto di vista puramente accademico. Lo vedremo dopo. Questo problema grosso dell'archeologia sperimentale in realtà gli studiosi l'hanno capito già parecchio tempo fa. Reynolds, che è stato, diciamo, il creatore di Batzer, ha creato un termine addirittura per potersi differenziare. Invece di parlare di ricostruzione, che vorrebbe dire la certezza assoluta, per esempio in questo caso della capanna, di come veniva effettuata la copertura. Invece non è così. La struttura di copertura di una capanna che ha soltanto i dati di scavo, quindi soltanto della pianta, è un'ipotesi. Invece di chiamarla una ricostruzione che prevede già nell'utilizzo del termine il fatto che noi siamo sicuri al 100% di come era, lui ha coniato questo nuovo termine che si chiama construct e che vedremo utilizzato in modo abbastanza estensivo, in EXARC, proprio per differenziare quello che è una ricostruzione vera e quello che è invece un oggetto di archeologia sperimentale. Quindi è come se fosse un modello interpretativo tridimensionale, un'ipotesi che sta in piedi o no. È proprio un metodo molto semplice di definizione. Per quanto concerne le origini dei musei archeologici e l'aperto, se intendiamo come punto chiave la ricostruzione tridimensionale di elementi architettonici del passato, le radici sono molto antiche. Una delle origini più eclatanti è quella delle esposizioni universali. Per esempio, in questo caso, nel 1889, nell'esposizione universale che è stata creata sotto la Tour Eiffel a Parigi, erano state ricostruite tridimensionalmente quelle che si ritenevano all'epoca essere, con molta fantasia, le ricostruzioni di diverse epoche storiche della storia della Francia. E questo ha un significato notevole, perché è in questa stessa esposizione universale che la preistoria viene definita in quanto tale. Quindi era strettamente connessa all'archeologia, questa operazione. Non solo, venivano addirittura rappresentate scene di vita, utilizzando esempi etnografici. Un utilizzo così, diciamo, acritico dello strumento etnografico e così fantasioso del passato a livello di ricreazione tridimensionale fa parte di quello che Roland ha definito il momento del romanticismo. C'è stato appunto questo momento in cui, non solo nell'ambito, diciamo, temporaneo delle esposizioni universali, ma anche in ambito permanente. Sono state ricreate delle specie di scenografie ispirate al passato che avevano come scopo quello di rappresentare romanticamente l'idea, per esempio, di un'identità, di un'identità nazionale, come è avvenuto in Svezia, in Danimarca, e poi vedremo cosa è successo in Germania. Uno dei primi musei archeologici all'aperto è un Teruldingen nel lago di Costanza che viene creato nel 1922. Vengono ricostruite due palafitte sulla base dei dati di scavo che riguardavano il Neolitico e ad oggi è ancora esistente questo museo archeologico all'aperto, fa parte del network di Exarch e ha avuto una storia molto interessante. Un altro che è anch'esso molto conosciuto e molto strutturato è Biskupin in Polonia. Entrambi questi siti qui vengono portati a livello esemplificativo perché sono stati strumentalizzati in modo molto pesante durante l'epoca precedente la Seconda Guerra Mondiale e contemporaneamente nel caso di Biskupin. Quello che mi preme di farvi passare adesso è il concetto della strumentalizzazione del passato che chi conosce la storia dell'archeologia ha acquisito ormai e che però bisogna riportare alla luce ogni qualvolta si parla di una ricostruzione tangibile che può essere utilizzata in modo spettacolare. in realtà questo elemento non è da rigettare to cure ma bisogna tenerne conto soprattutto a livello di rapporti con le forze in potere. È inevitabile che un reperto archeologico di grande impatto venga immediatamente strumentalizzato da chiunque abbia bisogno di vedersi rappresentato o giustificato nella propria acquisizione di potere. Subito, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale il fenomeno è degradato moltissimo fino a quando negli anni Sessanta con la New Archeology si è avuto un boom delle creazioni di questi nuovi musei archeologici all'aperto ma intesi esclusivamente proprio come ricerca quindi non erano dei musei per il pubblico ma erano dei laboratori a cielo aperto di sperimentazione archeologica come abbiamo visto prima Batzer che ancora oggi è aperto nonostante abbia passato alcune difficoltà in questo caso a Batzer si sta analizzando oltre alla ricostruzione tridimensionale di edifici pertinenti alla storia dell'Inghilterra anche tutto quello che è il rapporto tra l'uomo e l'ambiente e quindi anche in questo caso vedete le foto di alcune specie che sono state reinserite all'interno dell'habitat del passato come questa pecora che perde il pelo la lana non veniva la pecora antica non veniva tosata veniva raccolta la lana quindi c'è un'ottica molto onnicomprensiva di quello che era l'ambiente del passato non soltanto l'essere umano in quanto tale ma il suo rapporto con l'ambiente che in realtà è un po' il succo insomma di quella che è la civiltà e la cultura già alla fine degli anni 50 Hansol Hansen ha creato con un libro tra l'altro molto divertente una casa preistorica ha scritto il libro dicendo io ho fatto una casa preistorica grazie a questa sua esperienza in Danimarca ha preso vita quello che è uno dei musei archeologici all'aperto più validi io credo da tutti i punti di vista per come ha saputo gestire le varie tematiche che rientrano dentro un museo archeologico all'aperto è strutturato come abbiamo visto prima in un ambito naturale e sono state create delle piccole isole del tempo in questo caso vediamo all'alba il villaggio dell'età del ferro nello sviluppo di Laire c'è stata un'incredibile apertura verso il pubblico è possibile io adesso non conosco bene adesso la realtà contemporanea ma fino a qualche anno fa era possibile per nuclei familiari andare a passare una settimana preistorica quindi ci si svestiva dei propri abiti si veniva rivestiti degli abiti tipici dell'età del ferro veniva assegnata una capanna e gli operatori del museo archeologico all'aperto fornivano laddove era necessario i cibi e in qualche caso le competenze che magari servivano a prendere il fuoco piuttosto che impastare la farina eccetera quindi è un'esperienza totalizzante nel caso di Laire un'esperienza che loro vogliono fornire soprattutto dando la priorità per esempio al fatto che esistano tre generazioni nel nucleo familiare che va quindi far vivere questa esperienza al nonno, alla madre, al nipote insieme e qui rientriamo in quello che è l'aspetto intangibile perché in realtà magari queste persone non sono assolutamente interessate all'archeologia non sono dei cultori non sono degli specializzati ma pur di stare insieme ai propri cari in un ambiente del tutto scevro da quella che è la vita contemporanea sono disposti a fare un passo nel passato ma non solo Laire ha fatto un ulteriore passo secondo me fondamentale di cui sarebbe bene che chi riesce a creare una nuova realtà ne tenesse presente subito è quello di far partecipare al pubblico delle esperienze che si svolgono nell'ambito della ricerca anche in questo caso vedete c'è un ricercatore che sta effettuando un esperimento di scheggiatura che viene mostrato al pubblico il pubblico è interessato chiede cosa stai facendo e lui può spiegare sto cercando di capire come come si poteva utilizzare questo tipo di pietra o non so qualsiasi altra cosa non pensate che si tratti di cose non concordate Laire fino a qualche anno fa aveva proprio un bando di concorso dove chiunque avesse un progetto di ricerca tramite sperimentazione che potesse utilizzare tutto diciamo quello che era disponibile all'interno del museo archeologico all'aperto veniva selezionato veniva strutturato un protocollo scientifico significativo non tutto veniva accettato con la sola richiesta di partecipe il pubblico quindi qua ci sono tutti e tre gli aspetti sia la ricerca il turismo e poi il come dire il coinvolgimento fisico direttamente alcuni esempi europei da qui in poi ognuno sostanzialmente si è occupato di una cosa in questo caso a Bayoum-Varenhof sono specializzati nelle tecniche di lavorazione del legno sulla base del reperto archeologico sempre in ogni caso il fatto che qualcuno si specializzi diciamo in una tecnica antica molto spesso è uno strumento per potersi riagganciare a quello che era la nostra tradizione artigianale con la seconda guerra mondiale penso che ve ne siate tutti resi conto c'è stata una cesura fortissima su alcune tecniche artigianali che non vengono più praticate c'è stato un salto di generazione tramite paradossalmente la tecnologia antica noi possiamo recuperare quello che si può ovviamente anche il nostro più recente passato oppure come in questo caso come vedete è stata ricreata una una villa romana ci possiamo anche basare su quelle che sono le culture che hanno restituito anche di più non soltanto alle culture che non hanno prodotto testi scritti possiamo andare avanti nel tempo in questo caso a Marl come vedete non ci si limita alla ricostruzione tridimensionale ma le attività che si svolgono di carattere sperimentale vengono poi fatte fruire al pubblico come nel caso della coltivazione delle erbe officinali e nella tintura della lana quindi la rosa di possibilità delle attività che si svolgono in un museo archeologico all'aperto è assolutamente illimitata un caso particolare che peraltro è entrato a far parte del network da poco è quello di Guédelon in Francia si tratta peraltro di un'operazione molto interessante perché è la rivalutazione di un'area di una cava di smessa quindi ha avuto anche un significato di trasformazione di un vero e proprio vuoto a livello paesaggistico si sta sostanzialmente ricostruendo un castello secondo le tecniche medievali come vedete gli strumenti che si utilizzano ma anche anche le impaltature che servono per innalzare le mura sono tutte ispirate a quanto poteva essere successo nel medioevo è ovviamente un programma che prevede 25 anni di lavoro è sorretto principalmente tramite l'utilizzo di volontari e si regge da solo è veramente un esempio molto interessante perché si regge da solo grazie anche appunto alle visite scolastiche al fatto che esistono diversi punti di ristoro all'interno dell'area ma la cosa che a me personalmente piace moltissimo è che in base alle sperimentazioni effettuate vengono elaborati dei programmi didattici che consentono ai piccoli o anche ai grandi di partecipare attivamente nella creazione di elementi necessari per la costruzione del castello in questo caso vediamo la lavorazione di una tegola quindi a livello di operazione io credo che Gedelon sia un esempio geniale perché non è stato creato un oggetto di pronto consumo noi ce lo poniamo sempre questo problema dobbiamo fare una capanna deve essere pronta domani invece qui hanno capito che far partecipare il pubblico alla costruzione del sito stesso non solo dà un incredibile supporto perché costruire un castello abbastanza impegnativo come abbiamo visto soprattutto quelle forze di oggi senza mezzi e senza tecnologia contemporanea ma in più dà un valore all'opera che va realizzandosi che non è più soltanto un'elevazione di un muro ma è anche un ritorno alle proprie radici perché tutte le fonti che vengono utilizzate per ricostruire Gedelon hanno una radice fortissima in quella che è la storia del paese e torniamo un attimo al tema dell'identità del riconoscimento per quanto riguarda gli esempi italiani io qui ne faccio soltanto diciamo vedere alcuni ma so che poi verrà il professor Cardarelli che vi parla profusamente del Montale quindi io introdurrò soltanto il tema questo è un caso in Val Senales provincia di Bolzano dove è stato realizzato un museo archeologico all'aperto in prossimità diciamo del sito del rinvenimento di Ötzi la mummia del Similaun come vedete la struttura è assolutamente avveniaristica contemporanea nella progettazione degli spazi interni si è avuto si è avuto un'attenzione antropologica della struttura anche espositiva e anche devo dire piuttosto artistica che non guasta perché la scienza insomma abbiamo visto la freddezza di un reperto archeologico è già indisponente se invece incominciamo a parlare il linguaggio emotivo incominciamo ad avere più rapporto con quanto dobbiamo mostrare per esempio questa rappresenta in breve questa scultura rappresenta in breve la storia gli ultimi momenti della vita di Ötzi Ötzi non c'è ovviamente cioè il reperto archeologico non esiste a Senales e a Bolzano però esiste un'area all'aperto dove sono state ricostruite sulla base non di reperti provenienti dalla stessa area ma provenienti dallo stesso contesto cronologico nell'area limitrofa degli esempi di capanne che vengono in alcuni casi usate come laboratori per le attività didattiche e di lontano si traguarda il tisengiuch cioè il posto il luogo dove si è stato effettivamente ritrovato se non siete stati andate a dare un'occhiata come vedete le attività che si svolgono all'interno delle capanne sanno essere estremamente coinvolgenti in questo caso vedete una riproduzione di un flauto che viene utilizzata all'interno di una capanna con il fuoco acceso sembrano cose semplici sono cose che una volta esperite non lasciano spazio alla dimenticanza sostanzialmente sono delle esperienze che rimangono nel cuore archeologi o no il montale invece che vi illustreranno poi i miei colleghi è collocato in un'area come vedete urbanizzata e occupa uno spazio abbastanza interessante a me preme di sottolineare qui che si tratta di un sito estremamente preciso dove viene data la possibilità al visitatore di passare dentro fisicamente allo scavo archeologico musealizzato in situ come vedete qui e quindi di avere un diretto input su quella che è la ricerca archeologica e poi quello di entrare fisicamente in un ambito di ricostruzione nonostante sia dentro un contesto avete visto estremamente urbanizzato con le due capanne che avete visto anche prima nel video che sono pertinenti a due fasi diverse ma vengono spiegate benissimo nello scavo il montale è un esempio notevole per la sinergia che è stata creata inizialmente per la fondazione e la realizzazione del museo archeologico all'aperto tramite peraltro una partnership europea come vedete anche gli interni delle capanne sono state arredate con reperti archeologici scusate non con reperti archeologici con repliche di reperti archeologici ispirati o a oggetti effettivamente rinvenuti in situ oppure da contesti sempre cronologicamente e geograficamente compatibili con l'area quindi finiamo con questo primo modulo dicendo che il museo archeologico all'aperto è una nuova modalità di interazione con il passato non è passivo è una modalità attiva un'altra parola chiave oltre all'interpretazione è dinamica non si tratta di una cosa statica si tratta di un divenire di un'interrogazione e di uno scambio costante tra la ricerca l'educazione e il turismo non si può prescindere da nessuno di questi tre poli assolutamente mai perché si rischierebbe di togliersi tutta una fetta diciamo di di fruttori in questo caso se ci sono queste tre componenti se l'interrogazione viene mantenuta dinamica con il passato l'archeologia diventa allora valore culturale aggiunto e qui finisce il primo modulo facciamo cinque dieci minuti di pausa e poi riprendiamo con la seconda parte grazie bene allora iniziamo con il secondo modulo vi siete riposati speriamo perché questo è un pochino più il tema un pochino più ostico perché forse è quello che ha più che vedere con l'ambito accademico mi auguro che non ci siano cose assolutamente incomprensibili vi invito se avete delle domande a scriverle a prenderne nota e ne discuteremo quanto volete nell'ultima ora soprattutto insomma per quello che compete da mia conoscenza parliamo adesso dell'archeologia sperimentale come strumento di ricerca anche in questo caso vi faccio vedere una presentazione che ho presentato un anno fa al quinto convegno dei giovani archeologi a Catania e devo dire che ho avuto la fortuna di poter illustrare una ricerca che è stata svolta nel 2003 quindi esattamente dieci anni dopo la struttura è così introdurremo l'argomento parleremo profusamente di quello che si intende come archeologia sperimentale poi passeremo a guardare invece che cosa si intende dal punto di vista accademico la seconda parte sarà un po' entrare effettivamente nel merito di un esperimento che non è tanto importante dal punto di vista del contenuto storico quanto più che altro per l'aspetto metodologico è un esempio un esempio che vuole illustrare un protocollo scientifico per dare una visione un po' completa di quello che può essere l'archeologia sperimentale e quello che può fornire all'archeologia come ultima come un ultimo argomento di questo modulo si parlerà di come diciamo forse in ambito un po' idealistico della cosa si potrebbe incastonare all'interno del museo archeologico all'aperto l'esperienza di archeologia sperimentale di che cosa potrebbe fornire come strumento diciamo di gestione anche del museo archeologico all'aperto conclusioni vedrete in realtà non ce ne sono quindi le vedremo con calma dopo posso sedermi do ok intanto mi presento perché non l'ho fatto prima io ho conseguito la laurea del vecchio ordinamento in conservazione dei beni culturali all'università della Tuscia mi sono laureata in archeologia medievale e colgo l'occasione di salutare il mio correlatore di tesi che non è potuto essere qui oggi ho vinto poi una borsa di studio di perfezionalmento all'estero che ho sfruttato per conseguire il master all'università di Exeter in archeologia sperimentale allora era una delle pochissime università che dava l'opportunità di specializzarsi in archeologia sperimentale sono membro ufficiale di Exarch non come istituzione ovviamente ma come libera ricercatrice Exarch inizialmente aveva soltanto membri istituzionali ovvero i membri del network erano effettivamente dei musei successivamente si è capito che erano tantissime le competenze che rientravano dentro l'ambito dei musei archeologici all'aperto per cui è stato possibile anche per i singoli essere membri del network e partecipare attivamente alle attività ho praticato la libera professione nel campo della tutela archeologica e dell'educazione e sono senza intiego attualmente rientro in quel 44% di cui si diceva stamattina della disoccupazione giovanile in Italia ho continuato in ogni caso a svolgere attività di ricerca indipendentemente da qualsiasi istituzione qui ho scritto soltanto nei temi dell'archeologia sperimentale in realtà la mia competenza è stata spesa anche nelle nuove tecniche di divulgazione attiva e soprattutto in quella che si chiama live interpretation cioè nell'utilizzo della living history e del reenactment che poi in italiano purtroppo noi abbiamo un termine solo è la rievocazione storica proprio come metodo per la valorizzazione del passato della storia in quanto tale quindi quello che vi presento adesso è diciamo il frutto del mio master che ha visto una ricerca effettuata nel nord Italia per capire che tipo di metodologia di archeologia sperimentale si applicava nel 2003 sfortunatamente ancora oggi i risultati di questa ricerca possono essere utilizzati per l'analisi del problema che cos'è l'archeologia sperimentale? se ne vedono un po' di tutti i colori diciamo sotto questa definizione sotto questa etichetta per esempio in questo caso vediamo la replica di un manufatto effettuata con le tecniche antiche in un laboratorio però con l'intento di replicare un reperto archeologico e si chiama molti la chiamano archeologia sperimentale delle volte ci capita anche di vedere personaggi in costume che svolgono delle attività ispirate alle tecnologie antiche in un contesto diciamo scenografico appunto nel passato e anche questa è un'attività che viene etichettata molto volentieri con il termine archeologia sperimentale delle volte vediamo anche persone vestite in modi diversi diciamo anche con fantasia svolgere delle attività che ripercorrono una tecnologia antica come in questo caso una fusione e anche questa viene chiamata molto volentieri archeologia sperimentale poi ci sono delle volte che non c'è sembra non esserci assolutamente niente di antico in questa immagine con addirittura l'utilizzo di un di mezzi assolutamente contemporanei su una struttura di ispirazione diciamo da scavo effettivamente però che di antico sembra non avere assolutamente nulla in realtà qui si sta cercando di capire come funziona la fusione primaria di rame l'estrazione del rame dal minerale e poi e questo forse è l'ambito che viene più visto sotto il termine di archeologia sperimentale diversi laboratori didattici vengono chiamati così delle volte vengono chiamati in inglese hands on activities per bambini o adulti dove tramite esperienza di una tecnologia antica si riesce a ottenere un manufatto piuttosto che a provare una qualsiasi esperienza diciamo manuale ispirata a una tecnologia antica e anche questa invariabilmente viene denominata archeologia sperimentale e poi ci sono degli eventi spettacolari eventi spettacolari combattimenti danze di ogni genere che come vedete magari utilizzando delle repliche anche attente al reperto archeologico però hanno una finalità così di intrattenimento ma anche in questo caso invariabilmente vengono denominate archeologia sperimentale come vedete tutte queste cose che sono diverse tra di loro però traggono l'origine sempre dal dato archeologico l'archeologia è sempre la base di tutte le attività che abbiamo appena visto quindi facciamo torniamo indietro guardiamo bene cosa sono queste cose abbiamo visto repliche di manufatti archeologici reenactment living history rievocazione storica come volete definirla attività esperienziali o dimostrazioni di tecnologia antica simulazione di processi produttivi didattica e performances o eventi spettacolari sono diverse sono parecchio diverse queste esperienze sembrano fare capo a degli ambiti diciamo di diversa origine e di diversa anche finalità sostanzialmente l'etichetta di archeologia sperimentale è stata così utilizzata indiscriminatamente nell'ambito dell'educazione e parlo anche ovviamente di tutto quello che è il curriculum scolastico quindi non soltanto l'attività didattica esperienziale che va un pochino di più verso il turismo e anche in quella che è la ricerca come dicevamo prima si è creata una frattura molto forte tra questi ambiti la ricerca è stata messa in secondo piano non è riuscita ad avere visibilità la ricerca a livello dell'etichetta archeologia sperimentale ma come abbiamo visto in realtà tutti i dati da cui traggono origine queste attività hanno comunque l'origine nel dato archeologico quindi sostanzialmente senza la pubblicazione dei dati di scavo niente di tutto quello che abbiamo appena visto sarebbe stato possibile in realtà la ricerca accademica in ambito dell'archeologia sperimentale è una disciplina ormai del tutto consolidata direi io qui ho inserito soltanto alcune dei contributi che ci sono stati recentemente riguardo alla definizione della disciplina e dalla definizione teoretica della disciplina dell'archeologia sperimentale pertanto io credo che sarebbe utile fare un piccolo viaggio all'interno di quella che è la realtà dell'archeologia sperimentale dentro all'accademia che cosa succede quando si parla di archeologia sperimentale in un ambito di ricerca io credo io credo che il problema principale sulla misinterpretazione del termine di archeologia sperimentale nell'ambito della ricerca sia la sottovalutazione del termine esperimento è vero è vero che in Italia anche il termine archeologia non è molto chiaro sfortunatamente anche in alcuni ambiti accademici credo anche sia evidente che anche dal punto di vista dei mass media quello che passa non sia più rappresentativo di quella che effettivamente è oggi l'archeologia ma bisognerebbe fare una tesi di dottorato a parte su questa cosa quindi parliamo dell'esperimento quello che è il protocollo sperimentale così come viene definito non è un'improvvisazione ma deriva la sua natura dalla filosofia e dalla scienza l'archeologia viene intesa oggi come una scienza sociale non è un ambito prettamente umanistico perché si serve della scienza proprio delle hard sciences per capire meglio il dato archeologico e non possiamo più fare finta che non sia così il protocollo sperimentale in ambito scientifico è una cosa molto chiara e molto già assodata da parecchio tempo e prevede dei punti fondamentali la formulazione di un'ipotesi la progettazione dell'esperimento a seconda delle variabili prese in considerazione l'esecuzione quindi mettere in pratica effettivamente l'esperimento documentando quello che accade la falsificazione o la validazione dell'ipotesi e la comunicazione della procedura e dei risultati alla comunità scientifica per esempio se io voglio fare un toast con il burro dico secondo me mi servono 20 grammi di burro più o meno progetto l'esperimento quindi mi serve il pane mi serve il burro magari devo scaldare anche il pane non lo so sì eseguo l'esperimento e documento quanto ho scaldato il pane 15 secondi ho spalmato il burro in 30 secondi e non si è sciolto perché era troppo freddo ah quindi ho analizzato le mie variabili la temperatura del burro la temperatura del toast sto facendo un esempio stupido allora era vero che mi servivano 20 grammi di burro per fare un toast sì però se fosse stato più caldo quindi la mia ipotesi era vera o falsa di vero non si può parlare in scienza quindi si può parlare di un'ipotesi valida o di un'ipotesi che non ha che non ha trovato validazione e quindi una falsificazione dell'ipotesi e quindi dopo scriverò un bel articoletto sul fatto che sfortunatamente credevo ci volessero 20 grammi di burro ma in realtà ho verificato che non ho avuto un conto di una variabile quella che io ho appena così semplificato a livello becero direi è la teoria della falsificazione di Popper Popper è un filosofo della scienza che tramite il suo contributo ha consentito uno sviluppo notevole dell'ottica sperimentale non siamo più fermi a Galileo e soprattutto la teoria della falsificazione che fornisce il protocollo per un esperimento in archeologia la prima cosa che ci dobbiamo chiedere se vogliamo fare archeologia sperimentale è perché lo scopo è quello di migliorare l'interpretazione del dato archeologico altrimenti non stiamo facendo un esperimento in archeologia stiamo facendo dell'altro non c'è assolutamente nulla di male nel fare dell'altro nel acquisire esperienza nel voler imparare a utilizzare una tecnologia antica assolutamente nessun problema solo non chiamiamo l'archeologia sperimentale se è archeologia sperimentale io vorrei sviluppare un'ipotesi interpretativa del dato archeologico perché? perché io sono un archeologo ho bisogno di affinare sempre di più il mio metodo di interpretazione non perché sono convinta che arriverà la verità storica perché la verità storica non esiste ma perché tramite il mio strumento metodologico mi avvicinerò sempre di più e questa è una certezza quindi la domanda perché è la base di qualsiasi genere di esperimento non si può improvvisare il come è altrettanto importante però per testare le mie ipotesi interpretative io faccio un esperimento e come avviene questo in archeologia? tramite la replicazione o il tentativo di replicare dei fenomeni del passato per capirli meglio allora questo fatto di voler replicare il fenomeno è forse questo l'elemento che ha destato più confusione nella definizione della disciplina vedremo perché gli studiosi hanno definito due generi di esperimento ci sono quelli primari oppure come dice Autram Actualistic che sono i più imitativi possibile ovvero a seconda della cosa che io voglio replicare del processo che io voglio indagare cercherò di essere più fedele possibile a quelle che erano le condizioni originali o che io interpreto come condizioni originali e mi servono proprio perché io ho la necessità di capire quali sono le variabili coinvolte nel mio esperimento quindi per esempio prima abbiamo visto il pane il burro la temperatura del burro e le altre cose comprese dentro questo processo mi servono questi esperimenti più imitativi possibili perché io riesco ad isolare le variabili a capire quali sono gli elementi che interagendo tra di loro mi portano a risultato e soprattutto non soltanto di distinguerle tra di loro ma di capire qual è il nesso causale tra le due variabili non casuale causale causa-effetto di solito sono quelli che si riescono a controllare meno questi esperimenti perché comunque appunto non avendo ancora consapevolezza di quelli che sono le variabili da indagare può succedere qualsiasi cosa servono perché in base ai risultati e all'analisi dei primi esperimenti si possono progettare quelli di seconda generazione che sono dei veri e propri esperimenti quelli di seconda generazione non si limitano all'analisi di quelle che sono le variabili ma vanno proprio a indagare le interazioni causali tra le variabili pertanto devono seguire un protocollo molto più rigido e devono essere assolutamente ripetibili se io faccio un esperimento che non riesco più a riprodurre ahimè non ho fatto un esperimento avrò fatto un'esperienza per mettere la valutazione statistica dei risultati ci piacerebbe molto in realtà per avere appunto la certezza scientifica noi dovremmo essere sicuri che un fenomeno è tale nel 98,5% dei casi e pertanto questo diventa leggermente oneroso dal punto di vista del numero dei test che bisognerebbe andare a compiere cioè almeno 100 in ogni caso gli esperimenti di seconda generazione sono quelli che effettivamente validano o falsificano un'ipotesi interpretativa tutti gli esperimenti sia quelli di prima che quelli di seconda generazione devono essere documentati perché se non riusciamo a documentare gli esperimenti prima non si tratta di un esperimento secondo non possiamo comunicare il nostro lavoro scientifico fatto altrimenti la comunità scientifica non può avvalersi del nostro lavoro che quindi non è un lavoro scientifico di solito la procedura per essere effettivamente scientifica non può essere cambiata nel corso dell'esperimento cioè se ci rendiamo conto che il processo che noi stiamo indagando in realtà è sbagliato ben venga riusciremo a dire così non si fa questa è l'importanza della falsificazione prendere coscienza dell'utilità dell'errore vorrei porre l'accento su questa cosa perché è una la grande resistenza che si ha contro l'archeologia sperimentale come strumento di ricerca credo che sia principalmente dovuta al fatto proprio della non accettazione della falsificazione la falsificazione appunto come vi dicevo è la presa di coscienza dell'aspetto positivo dell'errore si va per esclusione almeno so che così non funziona potrò elaborare una nuova ipotesi migliore della prima non so se vi rendete conto delle ricadute che questo pensiero potrebbe avere sull'accademia in ogni caso è solo nel rispetto di queste caratteristiche che si può parlare di archeologia sperimentale come strumento di ricerca cioè fiore di letteratura in merito ci sono scritti specifici su come si fa e si pubblica un esperimento per cui non si può più come dire fingere che non esista come disciplina perché è difficile capire che cos'è l'archeologia sperimentale perché è un processo dinamico di interrogazione non si può vedere con un unico visuale con un unico schema che cos'è lo scopo primario è sempre quello di aumentare la conoscenza si tratta di fare delle domande attivamente al passato ed è per questo che è difficile vederlo per cui quando si tratta di fare divulgazione mettendo a contatto il pubblico con i risultati o con i mezzi che si sono utilizzati per fare un esperimento in archeologia un punto di qualità è il punto interrogativo qui vediamo degli esempi una capana ricostruita villanoviana alcuni manufatti litici una fornace e degli esperimenti di tintura per essere effettivamente scientifici noi potremmo dire noi non sappiamo se effettivamente è così però abbiamo strutturato un esperimento e abbiamo messo in pratica la nostra ipotesi l'abbiamo rappresentata fisicamente deve essere chiaro che non è questo il fine dell'archeologia ma è solo il mezzo per acquisire conoscenza ecco perché diciamo si chiarisce ancora di più la confusione rispetto a che cos'è effettivamente l'archeologia sperimentale perché se denominiamo il mezzo con il fine è chiaro che ci sarà confusione è un po' la stessa cosa che succede con la tecnologia contemporanea come la augmented reality è quello il fine o è quello di incuriosire il pubblico ad avvicinarsi al passato in un altro modo bisognerebbe tenere molto presenti quelli che sono i mezzi e le finalità beh passiamo ad esempio pratico e vediamo se riesco a farvi capire cosa può succedere in un ambito di un piccolo esperimento in realtà che però ha avuto poi tutta una serie di ricadute abbastanza interessanti è stato effettuato un reinvenimento di martiriale archeologico che viene vicino a Parma senza contesto ahimè il problema nasce dall'osservazione di tracce sul fondo di alcuni contenitori ceramici che vedete rappresentati qui sul fondo di queste scodelle erano presenti questi segni concentrici piuttosto particolari cadevano dall'alto delle definizioni ah questo è sicuramente un fondo a conchiglia uno stacco a cordicella cioè quando il ceramista staccava il vaso dal tornio stiamo parlando di materiale del quindicesimo secolo dopo Cristo lasciava queste impronte interessante erano presenti queste tracce sul fondo su diverse tipologie c'erano delle scodelle soltanto ingobbiate altre decorate altre incise e graffite quindi diciamo appartenenti a delle classi ceramiche di produzione via via più complesse nella letteratura si trovava come distintiva questa traccia sul fondo delle scodelle proprio di una produzione locale di Parma vedete qui era stata fatta proprio il paragone con la sezione allora negli anni 30 si disegnava così dicendo che sicuramente il fondo D che portava questi segni era di produzione parmigiana sarebbe molto utile avere uno strumento di interpretazione di questo genere perché aiuterebbe tutti gli ulteriori rinvenimenti che si possono fare di ceramica poter dire ah c'è il fondo con lo stacco cordicella allora la produzione è probabile che sia di Parma uno strumento molto importante che facilita l'interpretazione del dato archeologico non so se riuscite a capire tornando indietro al discorso di prima quindi la domanda è può lo stacco cordicella essere considerato come un indicatore dell'area di produzione questo è il perché dell'esperimento può essere effettivamente così può essere considerato come l'indicatore di una tecnica produttiva specifica cioè in base alle tracce che io vedo sul fondo posso dire tutte queste cose di chi l'ha prodotto di che cosa significa perché se ne trovo uno a Padova o uno a Venezia posso dire cavolo c'era uno che era andato a Parma oppure qualcuno che aveva venduto insomma sto semplificando molto ma per farvi capire quale può essere la portata anche di una piccola cosa come questa a questo punto deve avvenire una cosa molto importante che gli archeologi conoscono molto bene credo che è la distinzione tra il contesto della scoperta e il contesto della giustificazione il contesto della scoperta è come considerare un oggetto del passato così com'è come se avesse un messaggio che io posso già leggere oggi e trasmettere in realtà non è così in realtà questo mi arriva da un passato e nel frattempo ha perso gran parte del suo significato è un frammento è come se io avessi mezza lettera di un'iscrizione cosa vuol dire io devo interpretarlo il contesto della giustificazione cioè quando l'archeologo si pone il problema cosa significa che cosa mi viene dal passato di questo oggetto è fondamentale soprattutto per la responsabilità di chi elabora l'interpretazione questo è un discorso che viene portato avanti dal punto di vista teoretico dei post-precessualisti forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare in ogni caso è sempre Popper che lo sottolinea quindi dal punto di vista scientifico distinguiamo quello che è il contesto della scoperta e quello della giustificazione testiamo le nostre ipotesi interpretative è una forma di correttezza e anche di onestà l'esperimento un'altra cosa molto simpatica che mi è stata tramandata ad Exeter è quello dell'esplicitazione di quello che viene definito l'assunto primario che cos'è l'assunto primario? è la base è la base sulla quale ci si muove per fare un esperimento sembrerebbe forse una cosa banale ma in realtà se io rendo esplicito il mio assunto primario do la possibilità alla comunità scientifica per esempio di dire io non sono d'accordo potrebbe esserci qualche studioso che dice no secondo me non è possibile nonostante la complessità del materiale replicare il processo di manufattura va bene allora non so come dire è dare la possibilità a chi viene dopo di noi di valutare le basi su cui ci siamo mossi per esempio in alcuni casi per esempio di archeologia cognitiva quando si fanno gli esperimenti riguardo alla lavorazione della pietra quindi alle diverse fasi di scheggiatura e si pongono in mano a delle persone che assolutamente non hanno idea di che cosa sia la manufattura litica si presuppone quindi l'assunto primario è che il nostro cervello sia ancora molto simile rispetto ai sapiens sapiens che allora avevano creato quegli oggetti non so se ho chiarito questo aspetto non vi vedo molto convinti l'altra cosa molto importante è che la finalità il mio assunto primario in questo caso non era voglio imparare come si facevano i vasi nel quindicesimo secolo no io non ho tempo di riacquisire su di me un'esperienza che peraltro pochissimi possono fare che imparano nel corso di una vita intera non è questo il mio intento il mio intento è quello di capire se effettivamente le tracce sul fondo possono dire qualcosa a livello scientifico per cui mi avvalgo di qualcuno che la tecnica la conosce già e non sto facendo uno screzzo a nessuno perché il mio fine è molto chiaro questo per dire che è necessario anche in questi ambiti scendere dei compromessi se dovessimo soltanto imparare un solo ambito di applicazione di artigianato di ETSI ci vorrebbero 3, 4, 5 generazioni cioè bisogna essere anche abbastanza realistici quando ci si pone in contatto con il passato in questo modo comunque sono passata a fare una cosa che Oder chiama l'approccio storico diretto ovvero sono andata in provincia di Parma a cercare se c'era qualcuno che facendo dei vasi in ceramica lasciava queste tracce sul fondo e l'ho trovato ce n'era uno che non era di Parma però era inglese comunque vedete in questa foto si vede chiaramente che staccando il vaso dal tornio lasciava queste impronte diceva che gli piacevano molto bene e questo è uno dei metodi che si possono utilizzare mai far finta che nessuno sape più fare le cose che si facevano nel passato grazie a Dio esiste la lunga durata e quindi in alcuni casi la funzionalità di alcuni oggetti è ancora la stessa da millenni quindi è avvenuta la prima fase visto come poteva funzionare si è svolto il primo esperimento quello attualistico proviamo a rifare esattamente quello che capitava nel passato che mi ha consentito quindi di analizzare e di scartare le variabili che a me non interessavano quindi qui vedete un vasetto adesso non si vede tanto bene che recava proprio le tracce di stacco dal tornio in base a questi esperimenti ho capito quelle erano le variabili che si incrociavano per ottenere le tracce sul fondo e in questo caso erano la modalità gestuale lo strumento utilizzato per lo stacco dal tornio e lo stato del tornio cioè se era fermo o in movimento come vedete a seconda della modalità di stacco poteva essere panna all'era diagonale incrociata e le diverse caratteristiche dello spago o del filo metallico utilizzato per staccare il vaso dopodiché è incominciata la seconda fase ovvero gli esperimenti veri e propri interlacciando tutte le variabili e analizzando i risultati come vedete sono stati tutti documentati fotografati questi sono gli esperimenti a tornio fermo e rappresentati graficamente questa è una parte molto importante nell'archeologia sperimentale si chiama collezione di riferimento anche se il risultato di un esperimento non ha niente a che vedere con il mio reperto originale a me serve documentarlo perché se ho una collezione di riferimento posso eventualmente confrontarlo anche con un oggetto che ha le stesse tracce ma che magari viene da un altro contesto o ha un altro significato collezione di riferimento è utile per cercare di evitare di reinventare tutte le volte l'acqua calda comunque vedete che non avevo niente a che vedere non funzionava per gli esperimenti attorno a movimento come vi ho detto prima mi sono avvalsa dell'aiuto di Cativamus che è una ceramista che abita a Exeter documentando ogni singolo esperimento come vedete a me non serviva di rifare una ciotola una ciotola identica a quelle del 500 perché a me interessava solo il fondo per esempio questo è l'esperimento G successivamente foto documentazione vedete questa è la corda la cordicella fa questi segni qua e poi rappresentazione grafica dei risultati incominciamo ad essere più vicini una volta che si sono ottenuti questi risultati vedete che qui è un campione molto piccolo perché sono stati fatti pochi esperimenti è proprio soltanto un esercizio metodologico si è potuta fare la tavola conclusiva mettendo quindi in relazione tutte le variabili analizzate e si è avuto modo di verificare che i dati più simili al reperto archeologico erano questi e quindi le condizioni necessarie e sufficienti perché si creassero delle tracce simili erano che ci fosse un filo metallico attorcigliato e che il tornio fosse comunque in movimento almeno un movimento anche lento quindi lo stacco la cordicella diventa stacco da tornio in movimento tramite filo metallico attorcigliato con movimento parallelo più probabilmente diagonale cioè al paragone con la fonte archeologica effettivamente c'è una similitudine abbastanza stretta tra l'altro confermata anche da una asportazione causuale di argilla dal fondo ma siamo sicuri che è proprio così possiamo dire quindi che le nostre domande hanno ricevuto una risposta sicura a dire la verità no perché c'è un errore c'è un errore che ci consente di creare una nuova ipotesi che è sicuramente migliore della prima in questo caso l'ipotesi è stata falsificata perché tramite il confronto con il reperto originale quindi torno all'archeologia non faccio un esperimento che diventa un'attività didattica e poi me ne dimentico torno all'archeologia i fondi dei reperti originali sono concavi mentre i miei reperti scusate gli oggetti ottenuti tramite la sperimentazione hanno il fondo piatto allora c'è qualcosa che non torna per cui c'è una nuova ipotesi ho capito cosa utilizzavano e come probabilmente avveniva ma non è propriamente quello che facevano nel passato non torna proprio tutto la nuova domanda è quindi ma esisteva forse una tecnica che permetteva di effettuare uno stacco a cordicella in concomitanza alla concavità del fondo è una nuova domanda alla quale si potrebbe rispondere io purtroppo non sono riuscita a portare avanti la ricerca bisognerebbe capire quanto ricorre a livello statistico oh scusate la caratteristica e poi progettare ed effettuare una nuova serie di esperimenti questa è la prima fase spero di non avervi troppo tediato con 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 queste cose tecniche mi piacerebbe di farvi capire che l'esperimento ha un grande giovamento per l'archeologia usualmente nei musei archeologici all'aperto avviene che i dati che vengono dall'archeologia vengono utilizzati per un esperimento e vengono così regalati al pubblico ma non tornano mai all'archeologia e questo ha contribuito moltissimo come lo ripeto perché va ripetuta questa cosa alla frattura con il mondo accademico cioè fin tanto che un esperimento non torna all'archeologia l'archeologo non capisce il valore dell'archeologia sperimentale sarebbe invece utilissimo per un museo archeologico all'aperto soprattutto se è in fase di fondazione prevedere all'interno proprio dell'ente dell'entità un ambito di applicazione dell'archeologia sperimentale come strumento di ricerca con la restituzione effettiva dei risultati anche se sono tutti falsificate le ipotesi e attenzione quindi sarebbe utile avere un laboratorio di studio e ricerca un laboratorio sì di analisi del materiale archeologico se si può benissimo ma soprattutto di ricerca pratica ed effettiva non lo dico soltanto dal punto di vista scientifico lo dico anche perché effettivamente è l'archeologia sperimentale che dà la possibilità di creare sempre nuove esperienze per il pubblico per il visitatore se non possiamo ambire a quello che capita all'aire cioè che il visitatore viene posta la possibilità di partecipare attivamente all'interrogazione del dato archeologico e questo per me sarebbe il massimo perché gli consentirebbe di sviluppare una sua ipotesi interpretativa quindi avrebbe un altro significato potremmo però almeno noi in Italia far ritornare l'archeologia sperimentale all'archeologia e tramite questo rimpinguare diciamo l'offerta per il pubblico in questo modo se l'archeologia sperimentale viene praticata nel museo archeologico all'aperto si crea un circolo virtuoso tra le tre sfere che abbiamo visto prima che ripeto a mio vedere anche nell'esperienza europea devono essere tenute presenti tutte e tre contemporaneamente questo ovviamente è un'ottica ideale però credo che per chi ha la fortuna di poter impiantare ex novo museo archeologico all'aperto potrebbe essere un'idea da valutare quindi bisognerebbe fare così acquisire un metodo definire una terminologia condivisa perché come abbiamo visto prima c'è un po' di dubbio sia in quello che si offre sia in quello che si prende la divulgazione al pubblico è fondamentale andrebbe curata attentamente andrebbero usati i termini propri che non significa escludere attività prettamente didattiche o esperienziali o spettacoli o tutte le altre attività che abbiamo visto ma chiamarle con il proprio nome in modo da restituire diciamo una collocazione una torrevolezza a quella che è l'archeologia sperimentale come strumento di ricerca soprattutto sarebbe utile per il museo archeologico all'aperto avere come dire spazio per fare le prime fasi di sperimentazione gli strumenti di prima scusate gli esperimenti attualistici trovano un'applicazione assolutamente ideale nel museo archeologico all'aperto per valutare le variabili potrebbero avere anche una ricaduta spettacolare non ci sono limiti sotto questo punto di vista l'ultima cosa di cui voglio parlarvi prima di concludere questa sezione è l'importanza di valutare il contributo dell'archeologia sperimentale nel patrimonio intangibile come abbiamo detto prima l'utilizzo di tecnologie antiche spesso ci mette in relazione anche con quelle che sono le caratteristiche tecnologiche dismesse da poco quindi di creare un legame che si è venuto a recidere nel corso del tempo con quelle che sono appunto un approccio storico diretto capire le risorse del territorio come sono state utilizzate anche recentemente e quindi il patrimonio intangibile in questo senso sarebbe una forma di artigianato per esempio ma il patrimonio intangibile è ancora una cosa ancora di più io credo siccome gli esseri umani posseggono tratti quali la coscienza la volontà e la capacità di riflettere non possono essere trattati come rocce o conigli questo lo dice Gibbon io credo che sia importante perché una cosa che abbiamo capito tramite le esperienze di archeologia sperimentale il contatto con il pubblico sono proprio questa necessità che viene dal basso di interagire di raccontarsi di parlare tra di noi di passarsi l'esperienza dall'uno all'altro è quello che gli inglesi chiamano storytelling dover aiutare l'archeologo sperimentalista ad aprire una fornace ancora calda è un'esperienza che non si può replicare tramite l'augmented reality ed è un'esperienza che è irripetibile o anche sentire i commenti di una bimba che assaggia il garum è una cosa meravigliosa ed è questo il patrimonio effettivamente intangibile quando dico valutare intendo proprio valutare queste esperienze valutare le ricadute che ci sono quindi l'archeologia sperimentale si strumento di ricerca importante per l'interpretazione archeologica l'archeologia sperimentale l'attrice anche di esperienze che mettono in contatto diretto con un patrimonio intangibile che non esiste fin tanto che noi non lo valutiamo adeguatamente e grazie di nuovo adesso facciamo un quarto d'ora di pausa sempre se avete domande dopo ne parleremo profusamente grazie 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 a tutti